Gioca su sisalpoker.it, Real Poker, Real Fun Pausa cena per i giocatori del 2005 No Limit Freeze Out Pausa sigaretta anche per Andrea Piva perché lo becco qui fuori dal Rio perché è un fumatore Eh sì, fumo solo il WSOP Ah solo le WSOP? Non è vero Magari Fumereci una volta l'anno Infatti sarebbe bello, d'altronde ho appena ripreso, aveva un argomento veramente duro per me Ripresava poco a fumare, avevo smesso per due anni Jack, tu che hai smesso da molto lo sai Io da otto Eh porca miseria, ce l'avevo fatta, ci riprovo Mi sono detto che dopo aver vinto il braccialetto Devi fare un fioretto Vinco il braccialetto, smetto di fumare, mi sembra lecito e bello Sarebbe una bella soluzione, intanto sei ancora in gioco in un torneo che non vale il braccialetto Ma potrebbe valere centinaia di migliaia di dollari, come sei messo? Sì, no in realtà il braccialetto lo vale, non il braccialetto Quello del main ovviamente Vero diciamo, però è sempre un braccialetto e è sempre molto importante Sono, credo di essere poco sotto l'average, che comunque per me in genere non è dato che conti moltissimo Sono sui 35 bui e ho fatto quattro livelli piuttosto movimentati I primi due un po' in sordina, gli ultimi due ho dovuto darmi una mossa, è successo un po' di tutto E devo dire che ho fatto veramente un ottimo gioco senza sbavature Però mi sono successe un po' di cose sfortunate al suo Però sono contento perché soprattutto in una mano ho fatto quella che si dice in gergo hero call Ovvero una chiamata da eroe ed ero buono in effetti Con terza coppia l'avversario mi ha messo lì, non ci ho creduto molto E ho chiamato e lui ha buttato via le carte per mia somma contentezza Con il rebelino che arrivava dietro tra l'altro Quanti siete rimasti? Non lo so, perché il tabellone non è stato ancora aggiornato Però siamo tantissimi, proprio un miliardo Penso un miliardo, un miliardo e 500 milioni Però almeno vanno per almeno 7-8 milioni Sì FUN